Bafio School, speciale Bafio contro le versi Bafio, dici cosa pensi dell'ingegnere D'Ascanio che ha costruito questo splendido gioiello di tecnologia chiamato Vespa Grande testa, grande testa di cazzo Spiegaci in Bafio School, quest'oggi, qual è il problema Il problema è che ne ho le palle piene di battere dentro quella merda di un cuscinetto bastardo Ma il pubblico di Bafio School non sa qual è il tuo problema, dov'è che devi battere e perché Perché sto cercando di montare questa merda di sterzo su questa merda di Vespa Gialla Sì E quindi ho un problema che non riesco a pentare bene questa... 12,40 Quindi spiegaci le prossime e future operazioni Le prossime e future operazioni saranno che tu... Tagliare l'altra... Beh io sono assistente Assistente, tieni sulla Vespa Che io spiego... Spiega intanto Spiega intanto